Uuuuh no prendilo! Signor! Ma nooo! Casino! Ragazzi un saluto a vostra startide e bentornati su Brawl Stars Siamo nelle sfide delle feste Innanzitutto buona vigilia di Natale a tutti Buon Natale a tutti Non so quando uscirà questo video ma faccio tutte le feste insieme a voi Non ha importanza L'importanza è che siamo tutti insieme e ci vogliamo bene Va bene? Siamo insieme a Cristian e a Vivan Apro insieme a voi l'evento della sfida delle feste che ancora non l'avevo aperto Allora, ladri ovviamente qua si dovranno rubare i regali Che bello! Tutto il contrario del vero Natale Rubare i regali Le mappe sono una sempre più dissociata dell'altra Perché la Super Saiyan ci vuole bene e ci mette sempre le mappe più complicate della storia dei Brawl Stars Mamma mia che vecchio è questa! No questa già l'avevo vista intuita perché ormai nella community vanno uscendo tutte le mappe Perché le copiano, le mandano sempre in giro Va bene ragazzi direi che ci possiamo andare a mettere pure la comp Così possiamo partire Tanto lo so che andiamo a sclerare male perché è sempre stato così Rubare i regali ragazzi Uno degli eventi più Veramente più esagerati Come giocate e come tante altre cose Chi è questo è il pirullino? Quanto danno fa sto cosa? Oh hai rotto No! È morto Comunque Leon è qua è molto dissocivole direi Aspetta aspetta facciamo una cosa Anche perché io ho messo qua la corsa Quindi lui dovrebbe correre a fare il dissocivole A non finire Facciamo così Mi prendo questo Lancialo! Non ci credo Non ci credo Aiuto sta a morire ragazzi Sono riuscito a prendere il regalino Oh perfetto E uno è preso Quante volte ho detto cortesemente Ci dissociamo tutti dal cortesemente Facciamo così Spostiamolo dall'altra parte Così almeno loro riescono a prenderlo e portarlo via Portarlo a casa Nel nostro bel presidio pieno di regali Perché a noi piacciono tanto i regali Aia Anche qua c'è Surgion Aiaiaia E c'è anche qualcosa brutto di Chester Che ve l'ho fatto vedere in video Fa fino a ragazzi 4432 con tutta la star power Ecco qual era il problema Aspetta Ma che vuoi? Oh! Aspetta 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 Ci penso io non ti preoccupare Non va bene per loro invece Facciamo così invece Via! Togliamo subito Amps che è una rottura di scatola Va bene tu vuoi stare lì a difendere Non è un problema L'importante è noi andiamo a togliere Qua il signor otto Ragazzi 4432 con tutta la star power Eeeh! Un colpo mi ha dato ragazzi! È la versione di Buller Non lo farloca Aspetta 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 Mi vado a spostare pure di là Morice No! No guarda non qua Per comunque quanto non c'è morta Guarda pure lì Aspetta 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 c'ho lo scudo E' un po' Non lo so che problemini c'ha Aspetta che me lo prendo io Che c'ho pure qua Per andare a pushare Facciamo così Christian Arrabiatissimo Ci andiamo a spacchettare pure questo bel regalino Che ci ha regalato la Supercell Grazie con il giocatore Ragazzi questa mappa è orribile È terribile questa mappa per la comp Se ci fosse pure Ems e Umbra che rompesse le scatole Mamma mia quanto danno che ci fa quello Ma che oh Ma che oh Ma che pure l'avvelenamento mi fa Andiamo a rompere pure questo Così loro vediamo se riescono pure a passare Aspetta stiamo attenti Aspetta siamo riusciti a prenderlo Bravo Christian Bravo signor Ivan No Aspetta fammelo andare a difendere da quella parte Corvo non ti conviene pusharmi Se mi pushi lo sai ci prendi schiaffoni Aiuto È come se ci prende gli schiaffoni Guarda quello che sei No ragazzi ero in difesa Non poteva andarla ad aiutare Poraccia ha rubato il regalino Aspetta aspetta No No sì ma se io devo rischiare il mio regalo No aspetta Uh bravissimi ragazzi Mette troppa ansia sta mappa No Ivi no Che quello zitto zitto Prende il regalino E se lo porta a casa Andiamo di qua Vabbè comunque Però adesso lui ha girato dall'altra parte Quindi non è che sia tanto un problemino Anzi facciamo una cosa Io vado a rompere qua il muretto Così loro ora si confondono Per andare sia a destra che a sinistra Colt Ci prendi gli schiaffettini Guarda ce lo dovrebbe fare il signor Ivan Perfetto Se ci passa il regalo Così almeno si ha al 100% Vabbè no se lo vado a fare lei Niente Cristian ruba il regalo E non li vuole dare a nessuno Non si condividono i regali Vabbè le do ragione Non deve assolutissimamente cadere Questa staccionata Uh No prendilo Signor Ma no Casino Facciamo così Eh niente Non ce lo faranno prendere mai del tutto Perché sono struzzi Ok Aspetta Attenzione Attenzione Dai Io l'ho presa Altra ricompensa per noi Che carino Molto carino Aiuto Ma perché le mappe sono così intersecate Non si capisce niente Mi mettono in difficoltà con i miei neuroni No Cristian Non dirmi che sei crashato Cristian Mi dissocio dal crash di Cristian Per favore Ti prego Aspetta Ehi Quelli ci hanno messo la comp Della Della mannaggia Della miseria Aspetta Sto attento di là Va bene Lui Prima o poi Deve prendere pure schiaffetti Allora Facciamo una cosa Facciamo cadere pure questo Così almeno Perfetto Quello ha cercato di prendere il regalino Ma niente Senza Eh Mannaggia i risultati Oh Togliti il primo E capisco che sono il grande e grosso Ma Eh 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 Non si può avere tutto alla vita Salve Aia Quello mi picchia Facciamo così Così almeno andiamo a togliere quello Andiamo a rompere le scate Guarda Si è curato Mi dissocio dalla cura Dai che lo killa No dai Con Di 55 di vita Che schifo Aspetta ci faccio un po' di danno Così almeno Uh perfetto Con quel muretto rotto di là Quella parte Sì ma te te vuoi fregare il regalino Ma il regalino non si può fregare Eh Rimane lì il regalino Non si tocca Non toccare il regalino Ah questo che ci va qui No ragazzi No non va bene così Non va affatto bene No ragazzi Sto facendo di tutto Si è fregato il regalo No Meno male L'hanno parato Aspetta che vado subito 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 Subitissimissimo Quello si è fregato il regalo altrui Ma Uh Griffettino qui Ma perché è il primo Allora facciamo così Perché lui pensa Aspetta No aspetta Non è un problema lei Il problema è Griff Ecco Per quello mi ero focussato su Griff Perché Griff È una rottura di scatola Immensa Aspetta facciamo così Oh Che sta a fa Eh Tolto Eh Signor Griffettino Cosa pensava lei Eh Oh mamma mia Quello si sta No aiuto Fatene Aiuto No Ma che giro Raga il regalo Ma l'hanno preso Ma non sto capendo Che giro ha fatto quel regalo Gli abbiamo fatto fare il tour de France Io si li posso rompere Quindi diventa Diciamo Si c'è Li stai prendendo tutti i regali Aspetta Mi sa che questa bisogna tenerla dura Perché qua è pericolosa la discussione No Quella che fa danno di ritorno Guarda quanto Oh ma che fastidio il suo muretto Che ci ho lasciato qua Ma sono un Un bruttissimo muratore Non se fanno ste cose E niente Voi rimanete là Non vi preoccupate Si sicuramente Bravi ragazzi Altra ricompensa per voi Ragazzi le altre non ve le sto facendo vedere Perché sono I punti Oh che bellino Il bappino natalino Icona del giocatore Oh 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 Ragazzi avete lasciato Mi piace Oh allora avrete Tanti regali Per Natale Dopo questa cringiata Possiamo andare avanti Ha la mappa molto libera E addirittura Mortis Strano che c'è Mortis Almeno dovrebbe essere spesso Anche così No Stavo togliendo il muro Aspetta che Ok No Brock Ma ce l'ha con me Dai mi fai avanzare Mannaggia a me E quando non riesco a fare le cose belle Vai Aspetta Cosa sto evitando dalla mia vita Ragazzi è difficile prendere il regalo qui Facciamo direttamente di qua Facciamo così Quello sta arrivando Mortis Sì c'è il Mortis di qua Aspetta Facciamo pure noi così Facciamo pure noi così Così almeno loro pure si confondono L'abbiamo preso Dai Dai che si torna indietro Dai forza È nostro il regalino Cosa vuoi Mortisio È buono Quello l'abbiamo tolto Sennò poi salta e diventa Dissocievole Brock è orribile Brock è fortissimo Quello si è fregato di nuovo il regalo Ma stiamo scherzando No vabbè Cioè di tutto e di più Li abbiamo lanciato Oh Meno male Mortis Mette ansia nelle mappe Perché ti Ti scansa i colpi Va avanti Magari si porta avanti il regalino Guarda questo che è dissocievole Assolutissimamente Togliamo il muretto Così almeno lui non si può più difendere Ora lo so io come combinarti A te Grom Non ti preoccupare Guarda togliamo bene Tutti i muretti Così riusciamo pure a rendere Il tutto più dissocievole Anche quello è andato Aspetta No Ok perfetto Quello ha preso il regalo Togliamo io ora pure questo Che era l'ultimo strategico Da poter fare È scoppiato tutto Perfetto Sono scoppiato io Non tutto Insieme agli altri avversari Bravo Cristian Sì l'hanno preso il regalino Bravo Io non sono servito quasi a niente In questa Ha solo tolto strategicamente i muretti Ritiriamo il premio Mi sa che questa Però Aspetta Noi abbiamo le mote di questo Invece questa è l'icona Oh non finiscono più le mappe ragazzi Aia Gelindo Aspetta Vediamo se Riusciamo pure a dargli un po' di fastidio Facciamo così Vediamo Speriamo che io sono riuscito pure a togliere Oh perfetto Quindi fino al terzo quadratino Lo toglieva Scusate ragazzi Ma devo fare il muratore Ve l'ho detto Se io non tolgo strategicamente le cose Aspetta che lo difendo pure con i codi Ah mannaggia ma allora è rimasto lì il regalo Aiuto Che te sei impallato Che è successo? Te l'hanno preso da sotto il naso Ma come? Io pensavo che questa fosse quella più rompisca Forse sono usciti i poverini loro un po' così Cosa? E' già finita Mamma mia Tic Speriamo che non lo sa usare Ma vedere pure quello che sta succedendo Oh Attesion Stiamo Oh non toccare Cristian Non ti permettere Sai Ma perché Shelly? No è un pazzo Ma veramente Shelly ci è andata a mettere questo qua? No vabbè Ma solo noi abbiamo capito la strategia Ma veramente Ma Aspetta che faccio così va Togliamogli un altro muro Proprio perché siccome stiamo vincendo Passa il regalo Quello Mamma mia Aspetta che pure ho chillato la bamba C'era la bamba che diceva Vieni qui Uh Campanellina per noi Ragazzi è arrivato l'ora di mangiare Din din Se buttiamoci di là allora direttamente Arriviamo prima del tempo Quello è andato da quell'altra parte Via Mamma mia Guarda sto muretto che dà fastidio Aspetta attenzione No Lo stavo lanciando No ragazzi hanno preso il regalo Aspetta Allora Facciamo così Allora se loro stanno prendendo quello Io posso benissimo già prendere questo Allora No No aiuto Ragazzi ho preso Bravissimo Bravo Divano Ti prego Fai la magia Divano No aiuto Aspetta Aspetta No Ok Ultima mappa Aiuto Frank Perché Frank Aspetta Aspetta è complicato Complicaticcio Come devo fare con quello Aspetta Aspetta Aia Quello mi spinge Oh è bassa Mamma mia Gelinda Una tortura sei Via Buon Natale Vai che è l'ultimo Ce lo facciamo Dai Quello Ah io lo faccio No 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 ragazzi Questo è un fail Questo è un super fail Io mi dissocio dalla partita che abbiamo appena fatto Sicuramente non la metterò tutta perché è troppo lunga ragazzi Cioè ci hanno messo veramente a quello Se tu ora ti metti a fare il teletrasporto sicuramente guarda adesso lo andiamo a fare subito subito andremo a fare Ok quello almeno è stato pulito Allora vediamo vediamo se lo prende il signor Vai No perché non ho lanciato la mannaggia della miseria non si è lanciata ragazzi non ci posso fare Uno ha preso Christian bravissimo Ragazzi è complicata Ma che è sta cosa Questo si è teletrasportato Facciamo pulizia da questa parte Cioè già è complicata così ci manca pure il resto del Ciao No Aspetta dammi qua Dai Almeno l'ho tolto pure a quell'altro Vai Ivan Penso che l'abbiamo vinta Penso ah perché dopo prima mi dissocio Oh alleluia Ce l'abbiamo preso Aspetta che andiamo avanti Oddio Ma io posso mai sudare tutte le sante volte Per un calzino con la panza Molto carino il calzino Io ho sempre pensato che fosse un'icona tipo una faccina con la panza Ragazzi abbiamo fatto un errore Ma poco importa che siano 0 che siano 3 che siano 4 L'importante è portare a casa la vittoria E soprattutto divertirsi Va bene? Ringrazio il signor Ivan Ringrazio il signor Christian Per questo video è tutto Lasciate mi piace Iscrivetevi Commentate E condividete In descrizione trovate Instagram TikTok Server ufficiale Discord Del canale Mi trovate ogni giorno in live Con Brawl Stars StumbleGuys E FallGuys Sempre alle 5 del pomeriggio È tutto Ciao 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 Ciao